Ben trovati l'informazione di TRMH24, in apertura la bozza di decreto che disciplina la riforma dell'autonomia differenziata dei territori italiani è al centro del dibattito politico a livello nazionale. Il regionalismo differenziato in sanità è una materia da maneggiare con cura. Lo ha ribadito il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, intervenendo a Matera a un incontro promosso dal circolo culturale La Scaletta sul tema curare la sanità. Il regionalismo differenziato in materia sanitaria serve cautela per evitare di allargare il divario nord-sud. E' questa, in estrema sintesi, la posizione del presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, su un argomento intricato, tornato al centro delle cronache con il progetto di autonomia differenziata voluto dalle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Cartabellotta, Matera ha partecipato all'incontro promosso dal circolo culturale La Scaletta sul tema curare la sanità con focus specifico sulle prestazioni e domanda di salute in Basilicata. Io credo che il regionalismo differenziato in sanità sia una materia da maneggiare con estrema cura, sia perché non si conoscono quali sono la prevedibilità delle conseguenze, sia perché con l'impianto attualmente disponibile, quindi con le richieste fatte da Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, si rischia certamente di aumentare le diseguaglianze regionali, di aumentare ovviamente il gap nord-sud e ovviamente i gap tra le regioni più ricche e le regioni più povere del paese che già esistono oggi e che con quell'implementazione di nuove autonomie rischiano ovviamente di penalizzare ulteriormente le regioni del centro-sud. Nelle scorse ore intanto il circolo La Scaletta, insieme ad altre otto associazioni, è aderito alla raccolta di firme per la presentazione di una proposta di legge d'iniziativa popolare che vede tra i suoi promotori l'economista Gianfranco Viesti per la modifica degli articoli 116 e 117 della Costituzione e per fermare il progetto di autonomia differenziata. I rappresentanti delle associazioni hanno redatto un documento che mette insieme i motivi della contrarietà ad una proposta definita divisiva e devastante per l'unità nazionale. Ha voluto presentare una bilancia consegnando agli astanti una visione ottimistica della lettura dei pro e dei contro che interessano la sanità. Vi è però una maggiore pendenza sulle criticità a partire dalla crisi economica? Noi oggi sicuramente dal punto di vista della sanità ci troviamo di fronte a opportunità importanti. C'è il PNRR, c'è l'approccio One Health, la trasformazione digitale, cioè ci sono tanti aspetti che dicono è il momento buono per rilanciare il Servizio Sanitario Nazionale. Dall'altro è ovvio che con la presenza del conflitto in Ucraina, un'economia di guerra, la crisi economica e la crisi energetica spostano inevitabilmente l'attenzione della politica verso altre questioni. Noi abbiamo proposto veramente già da un anno e mezzo delle soluzioni che poi tra l'altro sono state riproposte anche da carta bellotta stamattina. Attenzione sulla professionalità, la selezione dei professionisti, la qualità, il controllo delle prestazioni. Parliamo ancora di autonomia differenziata, lontani da un'intesa. Emiliano si rischia una babele, il governo non è unito. Salvini risponde, in un mese abbiamo fatto più dei due governi precedenti. Cambi di rotta e posizioni difficilmente conciliabili. Il percorso dell'autonomia regionale differenziata sembra essere lontano da un punto di incontro tra il governo e i presidenti di regione afferenti politicamente all'attuale opposizione in Parlamento. Il governatore pugliese Michele Emiliano è intervenuto nelle scorse ore dicendosi pronto a chiamare a raccolta tutte le forze parlamentari e sociali che non condividono la visione illustrata dal ministro Calderoli. Il blitz della Lega di Calderoli, ha dichiarato Emiliano, sull'autonomia differenziata dei ricchi contro i meno ricchi, è già stato affondato dal governo che appare diviso su tutto. Il Partito Democratico, ha continuato ancora Emiliano, ha ribadito che se si vuole dare più autonomia alle regioni, questo percorso va fatto cambiando la Costituzione ai sensi dell'articolo 138 e non con la scorciatoia delle intese individuali. Emiliano ha mosso critiche anche contro la possibilità, appaventata soprattutto in campagna elettorale, di andare verso una forma di governo presidenziale. Ci prospettano, attacca ancora, una Repubblica presidenziale senza contrappesi con una babele di ordinamenti giuridici regionali, fai da te, un Parlamento che perde così la sua centralità. Sul tema è intervenuto anche il ministro alle infrastrutture, nonché il leader della Lega, Matteo Salvini, rivendicando l'operato di Calderoli. In un mese, ha detto, ha fatto più dei due governi precedenti e dentro fine anno ci saranno i primi segnali concreti. Non si tratta di portare via niente a nessuno, ha rimarcato Salvini, ma di dare la possibilità a chi si sente pronto di affrontare nuove sfide e di farlo. Qualcuno potrà chiedere due competenze, ha concluso Salvini, qualcun altro 15 o 20. Manifestazione invece a potenza, avanti la sede della regione basilicata di CGL, Cisle e Will per protestare contro una sanità che hanno definito essere allo sbando. Neanche le forti piogge che si sono abbattute su potenza hanno fermato la manifestazione di sindacati e lavoratori contro quello che hanno definito essere il degrado della sanità lucana. Per CGL, Cisle e Will, la sanità è allo sbando. Questo è il motivo della protesta che è cominciata lo scorso 3 settembre con una mobilizzazione davanti all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera e che ha portato alla raccolta di migliaia di firme per sollecitare la regione basilicata ad attivare investimenti per frenare il declino della sanità materana potenziando servizi e organici nelle strutture sanitarie e per la medicina del territorio. Molte le criticità emerse per operatori del settore e parti sociali tra queste la carenza di medici, organici impoveriti, limiti al tetto di spesa, liste di attesa troppo lunghe e presidi territoriali che hanno definito essere sgretolati. A nulla è servito il tentativo dell'assessore regionale alla sanità, Francesco Fanelli, di convocare sindacati a ridosso della manifestazione. Anzi, per i tre segretari regionali di CGL, CISL e Will, Angelo Suma, Vincenzo Cavallo e Vincenzo Tortorelli, si è trattato di un malcelato tentativo di smantellare un importante momento di partecipazione democratica. L'obiettivo di oggi è di costruire una grande alleanza democratica per riscrivere il nuovo piano sanitario e per dare ai lucani una sanità di qualità e garantire il diritto alla salute. CGL, CISL e Will, oggi da questa piazza, chiede e manda un messaggio preciso. Curiamo la sanità per curare i lucani e per curare la nostra religione. La sanità lucana è sotto gli occhi di tutti e allo sfascio. Non abbiamo più tempo da perdere. Dobbiamo utilizzare le risorse del PNRR nel miglior modo possibile, perché quelle risorse sono l'ultimo treno che potrà far collegare la sanità lucana alle sanità più evolute. E cambiamo ancora argomento. Due giorni di formazione e sensibilizzazione alla guida sicura è l'iniziativa che a Bari ha visto coinvolte numerose associazioni insieme alla Polizia di Stato in occasione della giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada. A Bari si accende un riflettore sulla sicurezza stradale. In occasione della giornata mondiale ONU in ricordo delle vittime della strada sono tante le associazioni che hanno aderito al progetto Basta Vittime della strada organizzato da Guida Sicura Moderna. Due giornate di sensibilizzazione alla quale ha preso parte anche la Polizia di Stato per mostrare ai cittadini l'utilizzo degli strumenti di prevenzione e di gestione dei sinistri. Questo qui è il modello 106 C1 Autovelox che rileva la velocità delle autovetture o motoveicoli. Questo qui che sto impugnando adesso invece è il top crash. Non fa altro che rilevare tramite questa antenna satellitare la mia posizione attuale. Spazio poi ai volontari delle associazioni che per mezzo di una strumentazione didattica hanno illustrato i pericoli e le insidie a cui vanno incontro gli utenti della strada a prescindere dall'età e dall'esperienza di guida. Noi proveremo a tutti gli utenti della strada che si affaceranno per conoscere questa associazione e questo evento, proveremo a dargli dei consigli salva vita. Praticamente condizioni critiche come oggi, che c'è pioggia, bagnato e quindi sappiamo benissimo cosa vuol dire, daremo qualche suggerimento come gestire in condizioni critiche e quindi di scarsa aderenza. L'esercizio consiste nel controllare il veicolo quando ci sbanda sull'asse posteriore. Quindi ad esempio entro in curva, perdo l'asse posteriore, come si dice solitamente, sta andando in testa a coda l'autovettura per perdita di aderenza, devo intervenire. In questo momento sto perdendo il posteriore e sto controllando con una manovra di controsterzo. Sto cercando di tenere il veicolo più in strada possibile, ma soprattutto devo farlo, perché la prima regola è quella, non guardando dove mi sta portando il veicolo. Attività queste, la cui importanza è rimarcata dai numeri relativi alla sinistrosità e alla mortalità da incidenti stradali sul nostro territorio, che seppur in lieve calo rispetto al passato, non possono definirsi ancora rassicuranti. I dati emessi dall'ACI, rilasciati dall'ACI, per il 2021 parlano di 4.000 veicoli coinvolti e anche 250 biciclette, che è un dato fondamentale. Prevalentemente la mortalità riguarda gli uomini fra i 30 e i 50 anni. Siamo intorno alle 17 vittime, molto di meno, grazie a Dio, per le donne. Vogliamo che non ci siano più vittime sulla strada. A Matera intanto è tutto pronto per la prima borsa internazionale del turismo delle origini, promossa dall'APT di Basilicata. Questa mattina si è tenuta l'inaugurazione, nei locali dell'open space della città dei Sassi, una inaugurazione di una mostra dedicata al comune di Maratea e al suo Cristo. Mancano veramente poche ore allo start ufficiale della Borsa internazionale del turismo delle origini, ma ha preso già il via con una serie di appuntamenti di accompagnamento. Nelle scorse ore la conferenza stampa di presentazione, e adesso la presentazione invece di una mostra dedicata alla perla del tirreno, Maratea e al suo Cristo. Sì, è un'iniziativa che ci ha proposto il comune di Maratea e che noi abbiamo accolto subito, perché per vari motivi. Da un lato ci consente davvero di rafforzare il progetto di una borsa, che è una borsa nazionale, che però è organizzata a Matera, in rappresentanza di tutta la regione. I nostri 50 buyer, 50 ospiti che vengono da tutto il mondo, sono in giro per il Vulture. Ieri abbiamo organizzato un evento di benvenuto a Potenza, nel Teatro Stabile, e domani arriveranno a Matera e lunedì ci sarà, visiteranno la città dei Sassi, lunedì ci sarà il vero e proprio incontro con i nostri, con 200 operatori che vengono da tutta Italia. Ma il motivo per cui questa mostra è ancora più benvenuta nello spazio dell'open space è anche perché questo luogo è nato e ha come sua precisa mission quella di rappresentare l'intera Basilicata turistica nel cuore della città dei Sassi. Noi abbiamo un'intesa con l'APT di Basilicata per promuovere tutti i 131 comuni della Basilicata, ma soprattutto per far conoscere la storia di ciascun comune. Maratea e Matera sono uniti da un rapporto di collaborazione perché Maratea e Matera hanno una storia antica che va dal Paleolitico sino ad oggi. Noi abbiamo voluto con questa mostra far conoscere la storia della statua del Cristo Redentore di Maratea che ha origine nel 1957 quando il conte Stefano Rivetti diede l'incarico all'ingegnere Bruno Innocenti di fare la statua del Cristo Redentore. Fu un lavoro molto meticoloso e molto lungo che utilizzò anche la grande professionalità dei fratelli ingegneri musumeci per la struttura in acciaio che sostiene la statua che come ben sapete è alta 22 metri ed ha un'apertura delle braccia di 19 metri per cui è una statua importante sulla sommità del Monte Minerva oggi Monte San Biagio. Bene, ci fermiamo qui, grazie come sempre per la cortese attenzione e buon weekend.